Grazie Presidente. Sì, io devo dire, vorrei rassicurare il consigliere De Priamo, qui nessuno sta assolutamente in divano, stiamo ascoltando e ascoltiamo anche ovviamente gli interventi delle opposizioni che troviamo comunque utili alla discussione generale per cercare di portare avanti in modo, come dire, consono e utile la gestione dell'amministrazione. Certo è che troviamo questo insistere da parte di Fratelli d'Italia decisamente pretestuoso e un po' fuori luogo, perché quando ci si dice che sono debiti del 2014-2015 e dunque dovevano essere pagati prima dall'amministrazione, forse dimenticano che, e lo dobbiamo ripetere, che sono state votate centinaia di debiti fuori bilancio degli anni 2008-2009-2010-2011-2012 e questo ha generato un corso delle cose, per cui è ovvio che si ritarda tutto quanto un altro lavoro e questo genera degli interessi. Se magari qualcuno precedentemente non faceva troppi debiti fuori bilancio, perché anche noi ne stiamo facendo qualcuno in maniera molto misurata, ma li mettiamo in bilancio subito dopo e non li diamo alle amministrazioni future, allora forse ci sarebbe stata una gestione, come dire, corretta. Pertanto questa maggioranza vota favorevolmente a questa delibera e si assume questa responsabilità che altri non si stanno assumendo. Grazie Presidente.